buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 9 novembre 2024 abbiamo tante notizie oggi sui giornali sono molte in modo particolare per quanto riguarda le manifestazioni siamo nel weekend e quindi vi direi vi diremo che cosa fare durante le giornate di fine settimana ma procediamo come sempre attraverso il santo del giorno che oggi non è proprio un santo perché la chiesa cattolica ricorda un evento ricorda la dedicazione della basilica lateranense una delle quattro basiliche maggiori di roma insieme a quella di san pietro di san paolo fuori le mura e di santa maria maggiore è una delle basiliche più antiche della città urbe e così la possiamo definire perché poi ha dato questo nome un po a tutto il mondo ed è una delle basiliche più importanti di roma sede del papato per tanti tanti anni e poi procediamo alle previsioni del tempo e vediamo che su tutte le marche si estende un manto nuvoloso su tutta la regione appunto con possibili e brevi pioviggini al mattino la temperatura è in lieve calo 12 la minima 14 la massima è calata proprio quest'ultima i venti sulle coste espireranno con una tensione media da nord ovest nell'entroterra da sud est il mare leggermente mosso le temperature dicevo 12 la minima 14 la massima mentre il sole è sorto alle 6 e 53 e tramonterà alle 16 e 49 oggi apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo l'articolo di apertura si tratta di quanto comunicato durante la conferenza stampa del venerdì dal sindaco e dalla giunta appunto nella giornata di ieri si tratta di lavori pubblici che hanno avuto attenzione in modo particolare per le scuole le scuole hanno bisogno di un continuo intervento di cura e di manutenzione in modo particolare in base ai cambiamenti climatici che hanno così resi più 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 frequenti i temporali e molte infiltrazioni si sono verificate nelle scuole due scuole in modo particolare sono state attenzionate sono la scatola magica di rosciano una scuola per l'infanzia e la scuola elementare media di sant'orso la filippo montesi qui le infiltrazioni erano veramente frequenti e anche così invalidanti per quanto riguarda l'attività scolastica vediamo qui una foto pubblicata dal resto del carlino con asciugamani e stracci posti sul pavimento per asciugarlo e quindi occorreva un intervento immediato sono stati stanziati 350 e 200 mila euro dall'amministrazione comunale per intervenire su entrambe le scuole e l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari ha annunciato anche un intervento innovativo invece di utilizzare la conseta guaina impermeabile si utilizzeranno delle resine polimeriche posate a spruzzo questo permetterà di ottenere una migliore impermeabilizzazione del tetto costeranno un po' di più ha detto ma si risparmierà nella mano d'opera l'intervento durerà dai 10 ai 15 giorni quindi sarà un intervento molto molto rapido e poi una volta conclusi i lavori si procederà ad altre scuole perché le scuole hanno bisogno di un costante intervento di manutenzione che si prolungherà per tutto l'anno gli interventi nelle due scuole scatola magica e Filippo Montesi non sospenderanno l'attività didattica vediamo anche una presa di posizione dell'assessore e no dell'assessore del consigliere regionale Renato Claudio Minardi in merito alla ciclovia adriatica la regione ha ottenuto dei finanziamenti sono in arrivo 27,5 milioni di euro che dovranno essere impiegati nel completamento di questa struttura importante che si dilungherà per tutta la costa adriatica e quindi anche nel nostro territorio e Minardi chiede alla regione di riversare gran parte di questi finanziamenti nel tratto della nostra provincia Ponte Sasso o fiume Metauro l'opera più costosa ovviamente quella del ponte sul fiume Metauro che attirerà che comporterà le spese maggiori ecco perché Minardi sensibilizza la giunta finché appunto quest'opera venga completata con una priorità dedicata al nostro territorio vediamo ancora un articolo di cronaca tenta di gettarsi dal ponte un poliziotto lo afferra in tempo è un evento questo che è accaduto alcuni giorni fa i due sono rimasti sempre in contatto si tratta di Massimiliano Falso assistente capo della volante nel commissariato di Fano che passando nella zona di Metauriglia a Ponte Metauro ha notato un giovane è un giovane 25enne nato in Italia da genitori italiani con l'evidente intenzione di buttarsi di sotto facendo un volo di 15 metri e poi quindi ovviamente gettandosi da quell'altezza l'esito era scontato ebbene ha cominciato a parlargli piano piano con delicatezza e lo ha convinto ad esistere anzi lo ha afferrato in un momento cruciale proprio quando il giovane era deciso a farla finita ebbene ho perso la mamma durante il covid aveva detto lui stesso e recentemente aveva avuto anche dei problemi di salute questo ragazzo vive da solo con il padre che è l'unico che lavora il giovane una volta salvato è stato poi portato all'ospedale per le cure e per il necessario supporto psicologico comunque un evento che dimostra la prontezza anche la capacità di questo agente di polizia di interloquire con questo ragazzo quindi con il suo prossimo compie un secolo compie un secolo di vita lo storico marinaio Silvano Pensi e quindi lui incarna un po' la storia della marineria affanese da quando si navigava a vela poi piano piano con i motori e tutte le traversie insomma la pesca in alto adriatico qualche rotta verso la jugoslavia le tempeste le tempeste quella del 64 che è rimasta memorabile la fatica e anche la soddisfazione di portare a casa una buona pesca tutto questo rimane in un bagaglio di esperienze di ricordi di Silvano Pensi che ha così soffiato 100 candeline in maniera ipotetica ed è il nonno del sindaco Barbieri il sindaco di Mondolfo ieri è stato festeggiato da due sindaci la sindaco di Fano perché Pensi abita a Fano abita in Sassonia e anche dal nipote appunto il sindaco di Mondolfo Barbieri ed ora purtroppo dobbiamo annunciare un lutto se ne è andato un personaggio molto noto a Fano un personaggio di una grande umanità ma anche di una grande professionalità si è spento maglio per Pierboni la Fano sportiva sotto shock addio al dottore del Fano calcio dell'Alma Juventus soprattutto era tra gli ortopedici più amati una carriera di fama nazionale è morto poi improvvisamente all'ospedale di Pergola era noto per i suoi toni cordiali e la disponibilità ebbene era ricoverato da qualche giorno ma però insomma la sua scomparsa è giunta improvvisa e ha scioccato un po' tutti coloro che lo conoscevano la notizia ha colto di sorpresa un po' tutti dall'ambiente sanitario dove il dottor Pierboni era conosciutissimo dall'ambiente sportivo ma anche da coloro che la conoscevano così per una conoscenza causale Pierboni ha sempre dimostrato una grande disponibilità era sempre pronto a rincuorare a sdrammatizzare ogni circostanza in modo particolare quelle sportive non a caso negli ambienti sportivi circolava la battuta meglio l'occhio di Pierboni che una ecografia insomma aveva una capacità anche di diagnosi veramente efficace peccato peccato che se n'è andato e così improvvisamente giriamo la pagina con un po' di rammarico e passiamo all'entroterra si tratta di finanziamenti che sono piovuti a Pergola e in modo particolare nel Museo dei Bronzi Museo dei Bronzi al top un milione per rinnovarlo Pergola sarà sempre più immersivo e interattivo questo centro culturale ma anche completamente accessibile e inclusivo per le persone diversamente abili ieri c'è stata la presentazione da parte delle autorità le vediamo qui nella fotografia da sinistra abbiamo Sabatucci, Gallo, l'onorevole Baldelli, Fiorucci e Bellucci insomma tutti coloro che si sono dati da fare per valorizzare questa attrattiva culturale del nostro entroterra il progetto i cui lavori dovrebbero terminare tra l'estate e l'autunno del prossimo anno prevede interventi sull'intera struttura dalla piazzetta esterna alle radicate riconsiderazioni degli allestimenti del sistema illumino tecnico, sensoriale e cognitivo ebbene una maggiore, una migliore esposizione anche dal punto di vista didattico perché un museo per essere efficace, per essere attraente deve essere anche interattivo cioè non si può stare lì solo a guardare un'opera d'arte e passare a un'altra ma bisogna anche stabilire un rapporto, un qualcosa che renda protagonista lo stesso visitatore Urbino, Urbino si distingue per un settore della sanità molto importante quello della protesi all'anca protesi per l'anca, Urbino è all'avanguardia l'equipe dell'ospedale ha attivato una procedura mini-invasiva che permetterà ai pazienti di sottoporsi all'operazione con meno dolore e una ripresa più rapida è proprio quello che tutti quanti noi vorremmo vediamo anche che si prepara un consiglio comunale con tanti punti all'ordine del giorno sono in programma ben 20 punti e quello di lunedì prossimo 4 punti in programma per quanto riguarda le delibere eventi tra comunicazioni, interrogazioni, emozioni e ordini del giorno da dibattere quindi sarà una riunione da seguire con particolare attenzione e passiamo alla guinza questa struttura che dovrebbe collegare in modo efficace le marche con l'Umbria ma oserei dire le marche con tutto il resto del centro Italia una infrastruttura importantissima per la Fano Grosseto Salvini e Carloni in visita al cantiere della guinza il ministro è intervenuto era in Umbria e quindi è intervenuto dalla parte umbra della guinza e ha ipotizzato di fare anche il doppio senso perché il progetto attuale costituisce l'apertura di una sola galleria ma a questo punto si è parlato anche, si è ipotizzata, si è valutata almeno l'ipotesi di fare un doppio senso di marcia il che sarebbe veramente la conclusione di un iter che è cominciato tantissimo tempo fa e che finalmente avrebbe la sua conclusione un altro investimento importante è stato quello che ha ricevuto il comune di Fossombrone milioni per la biblioteca Passionei esulta il sindaco Massimo Berloni grazie al ministro Salvini ha detto abbiamo ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione ebbene il sindaco sprizza soddisfazione da tutti i pori dice il resto del Carlino il ministro Salvini ha firmato il decreto che dovrebbe rivalutare questa biblioteca questo centro culturale i cui lavori dovrebbero avere inizio prossimamente e terminare nel giro di 18-24 mesi un risultato importante ottenuto da Fossombrone una città bellissima da visitare a questo punto diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro dove si inizia con una notizia di carattere sportivo ed è un provvedimento che la Questura ha assunto per evitare incidenti probabili, ipotetici incidenti quelli che potrebbero così rendere precaria la partita tra la VL e il Rimini considerata a rischio disordini al Palace entreranno, e questo è il provvedimento assunto dalla Questura entreranno soltanto i tifosi residenti in provincia quindi niente tifosi riminesi e anche tifosi che magari sono nella provincia di Ancona oppure vengono dall'Umbria ipotetici ovviamente non so se qualche tifoso anconetano vuole vedere giocare la VL ma se così fosse non può entrare al Palace ed è questo un provvedimento che magari dice il giornale avrebbe più ragione se fatto con il calcio perché per il VL insomma c'è però tutto questo antagonismo tra i pesaresi e i riminesi e quindi insomma un po' si obietta a questo provvedimento che cede per quanto riguarda la prudenza ma dato che siamo anche in tema di sport vediamo anche qualche notizia che riguarda il calcio parliamo della Vis Zoia Stellone il nostro punto di forza un giocatore che fa la differenza il difensore bianco-rosso la preparazione delle partite e l'impostazione tattica fanno la differenza in questo campionato vediamo anche per quanto riguarda il Fano mezzogiorno di fuoco con il Real Case Bruciate imbattuto a punteggio pieno questo pomeriggio il Fano Calcio affronta allo Stadio Mancini l'inizio della gara e alle ore 15 l'ingresso è gratuito come sempre ebbene affronta il Real Case Bruciate World File di Montemarciano Ancona in una gara valevole per la sesta giornata del girone B di terza categoria l'ingresso è libero beh siamo ancora in una girone in un campionato insomma così che non merita un blasone come quello del Fano Calcio vediamo anche la VL cara VL vincerà chi ha i nervi più saldi è l'articolo per quanto riguarda il basket di cui abbiamo parlato prima con il Rimini momento idilliaco abbiamo trovato una grande chimica e la stiamo cavalcando ma vediamo anche quello che si profila per la pallavolo fanese Roberti Roberti carica la Virtus per Reggio Emilia freddezza e grinta possiamo farcela ha detto il giocatore siamo in A2 lo sappiamo ormai da qualche tempo la Smart System vince e perde insomma più vince che perde dobbiamo dire ebbene il giovane che è tra i migliori schiacciatori Roberti conta sul gruppo bisogna sfruttare le occasioni che capitano domani intanto alle 18 contro gli ex Partenio e Stabrava e con l'obiettivo di tornare a fare punti in classifica la gara appunto è domani alle 18 a questo punto torniamo nella cronaca per quanto riguarda Pesaro sul resto delle Carlino e vediamo che la proposta del sindaco Biancani di realizzare nuovi parcheggi multipiano a Pesaro comincia a destare già delle polemiche perché gli ambientalisti dicono se ti fate più parcheggi arriva più traffico invece i commercianti vorrebbero che ci fossero più parcheggi che così attirassero più gente nel centro storico però non nelle zone dove poi si devono fare le manifestazioni come per esempio il Carducci multipiano l'idea strana più parcheggi più traffico ed è appunto una delle prese di posizioni che caratterizzano questa polemica va in pensione un personaggio molto noto della giustizia locale si tratta del PM Silvia Cecchi sostituto procuratore del Tribunale di Pesaro da quasi 40 anni ebbene ieri ha salutato colleghi collaboratori polizia giudiziaria e avvocate lo scorso 31 ottobre è stato il suo ultimo giorno di servizio prima della pensione ricordiamo Silvia Cecchi per la grande battaglia che ha compiuto per il ritorno dell'Esipo è stata quella che in Tribunale ha difeso le ragioni del nostro territorio contro il Polghetti Museum che ha fatto di tutto per attestare la regolarità del suo possesso di questa statua di questo grande reperto storico che in realtà è andata nel mercato clandestino e quindi è andata a finire in America trasporti sciopero e disagi a scuola con auto private ieri giornata di sciopero in tutta Italia ha aderito anche il trasporto locale questo ha creato difficoltà alle famiglie che dovevano portare i figli a scuola la soluzione scelta per le forze da tante famiglie per accompagnare i figli con le auto private ovviamente Benedetti il direttore di Adria Bus Massimo Benedetti solo contando il mattino hanno aderito ha detto 42 conducenti quindi insomma è stato uno sciopero che si è fatto sentire il centro danza ballerà Sanremo selezionato tra più di 50 scuole Montelabate la soddisfazione della direttrice Lisa Vergoni sul palco del festival danzatore tra i 9 e i 20 anni quindi un grande successo per l'insegnamento di questa scuola abbiamo poi ancora due lutti nel nostro territorio nella famiglia Terenzi Merli Gabice Piange Giordano e Andrea il primo è stato uno dei fondatori del turismo locale aveva 95 anni il secondo era molto più giovane 49 e lavorava sempre nel settore a questo punto passiamo a dare un'occhiata anche al Corriere Adriatico dove l'apertura è sempre dedicata ai lavori nelle scuole nella scatola magica e nella scuola Filippo Montesi di Sant'Orso vediamo qui il titolo due scuole al limite della agibilità appaltati lavori di riparazione scorriamo il giornale e vediamo a fondo pagina il volto un po' melanconico ma sempre sorridente di Maglio Pierboni che ha fatto la storia dello sport Tefanese si è spento all'ospedale di Pergola una vita dedicata alla professione ed è veramente un peccato che se ne sia andato anche il Corriere Adriatico riporta la vicenda del poliziotto che ha salvato il 25enne che voleva farla finita gettandosi dal ponte sul Metauro e qua vediamo insomma una foto di due poliziotti che guardano l'alveo del fiume dall'alto del ponte dribbla le auto in strada e poi lo salva un poliziotto fuori servizio rischia la vita per mettere in sicurezza il ragazzo di origine straniera a fondo pagina invece parliamo di un argomento che coinvolge molte famiglie del nostro territorio si tratta di una patologia invalidante e quella dell'Alzheimer della malattia mentale che affligge molti molti anziani sono circa 600 i malati di Alzheimer nella città di Fano ma sono molti di più nel nostro territorio e sono poche le strutture che possono dare un aiuto soprattutto alle famiglie è in atto dobbiamo ricordarlo anche il progetto si sta cercando di realizzarlo il progetto di un nuovo centro residenziale proposto dalla fondazione Carifano e proprio ieri il sindaco ha annunciato che verrà inoltrata alla regione Marche la richiesta ufficiale di inserire nel piano del fabbisogno i 60 posti invocati per il centro residenziale che dovrebbero essere convenzionati ovviamente e su questo il Corriere fa il titolo centro residenziale richiesta alla regione di 60 posti ma in realtà l'argomento aveva un'altra sfaccettatura nella giornata di ieri perché in base alla presenza del sindaco ma anche di un operatore di un rappresentante del terzo settore come Giovanni Di Bari che è direttore dell'associazione Cante di Montevecchio una struttura appunto che si occupa dell'assistenza anche dei disabili a Imola ebbene ha fatto sì che si creasse che si creasse una community sull'Alzheimer nella città di Fano un punto di riferimento per le famiglie che purtroppo si confrontano con questo problema e completiamo la nostra rassegna stampa con l'evidenza della visita di Salvini a Laguinza prima canna nel 2026 i lavori saranno conclusi e vedremo se questa promessa sarà rispettata e questo è tutto per il momento io vi auguro un buon weekend e la rassegna stampa a Difano TV tornerà lunedì alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci